Ciao nonna Lì, che c'è? Buonasera. Che sei fatto? Sei contento oggi? Sto leggendo delle ricette. Ah, quel giornale che ti ho preso io, quel giornale di ricette? Una ricetta di ceci. Ah, aspira, una ricetta di ceci? Si fa con 600 grammi di ceci cotti. Eh, ok. Si passano questi ceci e si unisce con un poco di olio, un poco di sale, un po' di pepe e un po' di limone. Si prende questa crema e si passa nel pane, sul pane, sulle fette di pane. Pane o integrale e si fanno i sandwich. I che? Sandwich. I sandwich. E come si chiamano? Eh? No, i sandwich. 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 Eh? Sandwich. 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 Vegana. Vegana, napoletana? Napoletana, sì. È perché c'è la mano tua, la mano napoletana. Io sono napoletana. Ma una napoletana può essere vegana? Come no. Come no? E che vuol dire vegana? Senza carne, senza carne, senza derivati. Senza grassi. Eh, grassi animali ovviamente. Cioè burro, senza grassi. Senza nemmeno i derivati. Va bene, allora facciamo questa ricetta. Va bene. Questa ricetta vegana. E questo, ma tu ce l'hai i ceci, no? Li devi comprare domani. I ceci no. Non tengono a ceci né l'indicchia, ce li fa pigliare. Eh vabbè. Ok. O me li faccio portare da quelli. No, domani che è domenico. Eh vabbè. Ok. Abbiamo terminato questa ricetta. Possiamo anche... Facciamo lunedì. Eh ho capito. I fatti nostri. I domani facciamo. Ah non li diciamo i fatti nostri. Dobbiamo salutare. Basta. Arrivederci. Arrivederci. I fatti nostri non li diciamo. Arrivederci. Arrivederci.